Vi trasmettiamo dall'autodromo di Monza, dove tra qualche istante avrà inizio la corsa per il Gran Premio d'Europa. Impavido e solitario il giovane Ascari. Sul circuito del leggendario Nürburgring si disputa il Gran Premio di Germania. Al via ci sono tutti i grandi del momento. Fangio, Moss, Collins, Hothor. Fangio il numero uno. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Ciao a tutti, siamo a Milano. Ma lo sapevi che la storia di Pirelli è iniziata qui nel 1872? Esatto, e con tanta passione 150 anni corrono veloci. Buon compleanno Pirelli! Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.